La giornata di oggi è sicuramente l'inizio e la fine di un percorso, la fine di un percorso perché dopo tanti anni in cui faticosamente siamo riusciti a portare all'emersione questa nostra presenza dentro l'ospedale e creare anche un'equipe polispecialistica, oggi partiamo per un progetto ancora più ambizioso che è quello di far diventare Palidoro, il Bambin Gesù, per quanto riguarda la Padre Ruilli, uno dei centri di riferimento quantomeno dell'Italia centro-meridionale. La patologia è multidisciplinare quindi abbraccia una serie di problematiche dall'aspetto psicologico all'aspetto del cibo che poi diventa un problema sociale. Noi cerchiamo di dare un supporto alle famiglie affinché questi problemi vengano smussati in qualche modo, cerchiamo di dare delle opportunità organizzando dei soggiorni vacanza, organizzando degli incontri e quello di oggi ne è l'esempio lampante affinché le famiglie capiscono che se si è uniti si riesce ad ottenere magari un qualcosa di più. E per fortuna devo dire che il Bambin Gesù in questo ci ha supportato e la giornata di oggi ne è l'esempio lampante. Molto positiva come esperienza, come genitore, come presidente, come padre di una bambina affretta dalla sindrome perché ogni giorno abbiamo delle domande che ci affliggono e quindi trovare una risposta in tempo reale ci aiuta nel nostro percorso nell'affrontare le difficoltà quotidiane che vengono fuori.